buongiorno a tutti allora primo video di giornata oggi è sabato e sabato mattina sono le dieci e mezza più o meno e quindi proseguono le la rubrichina prosegue la rubrichina del gigione le call news quindi due call news che riguardano ahimè visto che è il periodo purtroppo brutto brutto riguardano due persone scomparse una alla fine di gennaio e una al primo di febbraio due personaggi proprio agli antipodi uno era un giocatore di basket quindi avrete già capito di chi andremo a parlare e l'altro era un presidente di una squadra di calcio quindi partiamo prima da quello più più importante sempre brutto quando viene a mancare qualcuno però credo che Kobe Bryant sia Kobe Bryant aveva 41 anni ed è morto a causa dello schianto del suo elicottero su cui viaggiava anche una delle figlie Gianna Maria 13 anni Bryant è stato uno dei simboli del basket NBA dall'infanzia in Italia all'Oscar vinto dopo il ritiro ecco la storia del Black Mamba tra le vittime anche una delle figlie Gianna 13 anni Mamba out sono state le ultime parole da giocatore di Kobe Bryant morto domenica 26 gennaio in un incidente aero insieme ad altre otto persone tra cui anche una delle quattro figlie Gianna Maria appunto di 13 anni a poche ore di distanza dalla notizia della sua scomparsa le baccheche social di tutto il mondo sono state sommerse dai messaggi di cordoglio provenienti da sportivi politici e semplici tifosi che hanno usato questa frase come triste ritornerlo per ricordare uno dei giocatori di basket più famoso ed amato della storia dell'NBA e della pallacanestro mondiale cioè l'addio dei fan Lakers anche il campionato americano si è fermato per ne degli omaggio tra minuti di silenzio e la commozione dei suoi ex compagni di squadra Kobe era nato a Filadelfia il 23 agosto 1978 figlio d'arte suo padre l'ex gestista John Bryant ha trascorso diversi anni in Italia seguendo la carriera di Jelly Bean Bryant sui parcheggi di Pistoia Rieti Reggio Calabria e Reggio Emilia parlava benissimo in italiano come testimoniano le diverse interviste rilasciate negli anni a tv e radio del nostro paese dove tornava spesso per trascorrere le vacanze il suo legame con l'Italia era così forte da aver spinto le figlie tutti tutte con nome legati all'Italia Gianna Maria Biancabella Natalia Diamante e Capricobe a studiare l'italiano a soli 18 anni fa il suo esordio nel massimo campionato professionistico americano dove viene scelto dai Charlotte Hornets per poi essere ceduta ai Los Angeles Lakers che diventeranno la sua casa cestistica per i prossimi 20 anni per i successivi scusate con la maglia numero 8 diventata poi 24 entrambe ritirate dalla società dopo il suo ritiro Kobe Bryant ha vinto tutto 5 anelli cioè il campionato NBA due titoli di MVP miglior giocatore delle finali del 2009 e 2010 due titoli di capo canoniere della stagione regolare dal 2007 al 2012 ha giocato anche nella nazionale USA con cui ha vinto due medaglie d'oro alle olimpiadi di Peghino 2008 e Londra 2012 il soprannome Black Mamba come era conosciuto come The Black Mamba il dominion era nato proprio da Kobe dopo aver visto Kill Bill 2 dove si parlava del velenosissimo serpente nero che secondo il giocatore ricordava il suo modo di muoversi sul campo da basket nell'aprile 2016 dopo le ultime stagioni segnate da diversi infortuni Brian lascia il basket professionistico con un'ultima partita in cui segna 60 punti contro gli Utah Jets meno male che era la fine della carriera qualche mese prima era apparsa sul sito dei Players Tribune la sua lettera di a dia allo sport intitolata Dear Basketball un testo che diventa un cortometraggio con cui nel 2018 Brian diventa il primo cestista NBA a vincere anche un Oscar tra i passaggi più celebri la frase finale che oggi suona quasi come una sorta di testamento ci siamo dati l'un l'altro tutto ed entrambi sappiamo che qualsiasi cosa farò sarò sempre quel bambino con i calzettoni il cestino della spazzatura nell'angolo e cinque secondi ancora sul cronometra palla in mano cinque quattro tre due uno bene bene cioè male male perché quando succedono queste cose uno rimane sempre basito e c'è sempre il perché il perché non ci sarà mai il perché lo sapremo lo sapremo dopo perché ricordatevi sempre la morte è solo l'inizio veniamo ahimè alla seconda triste notizia di un'altra persona che è venuta a mancare però almeno la vita se l'è vissuta visto che aveva quasi il doppio degli anni di Kobe Bryant vediamo chi è è morto a Santo Domingo all'età di 81 anni Luciano Gaucci l'ex presidente del Perugia aveva trascorso gli ultimi anni della sua vita in Repubblica Dominicana nel mondo dello sport si affermò prima nell'ipica e poi nel calcio fu proprietario anche di Viptermese Catania e San Benedettese Gaucci si era trasferito nella Repubblica Dominicana dopo le accuse di bancarotta fradolente in conseguenza del fallimento del club Umbro dopo aver patteggiato ed usufruito di un indulto era rimasto nell'isola dei Caraibi era da tempo malato gravemente come dirigente sportivo durante la gestione del Perugia ha ottenuto una promozione dalla serie C1 alla serie B nel 1994 due promozioni dalla serie B alla serie A 1996 e 1998 più una promozione in serie B revocata per illecito sportivo al termine del campionato 92-93 che costò tre anni di squalifica al presidente durante le stagioni in serie A la squadra raggiunse la semifinale di Coppa Italia nel 2002-2003 e la partecipazione alla Coppa UEFA 2003-2004 successiva la vittoria della Coppa Intertoto 2003 primo trofeo importante della società è stato anche proprietario della Viptermese dal 97 al 2000 con una promozione in C1 del Catania dal 2000 al 2004 con una promozione in B e San Benedettese dal 2000 al 2004 con due promozioni dalla serie D alla C1 dopo aver lavorato da giovane come tranviere è diventato monopolista nel settore degli appalti nelle pulizie impresa la milanese ed è stato vicepresidente della S Roma dall'82 all'89 sotto la presidenza di Dino Viola è stato il primo e per adesso unico presidente ad affidare la panchina di squadra di calcio a un'allenatrice nel 1999 chiamò infatti Carolina Morace alla guida della Vitervese dove restò pochissimo inoltre fu lui a far debuttare in serie A Cerse Cosmi e in serie B Stefano Colantuono Gauce abbia anche diverse vicissitudine giudiziarie indagato per il fallimento del Perugia è stato inquisito assieme ai figli Riccardo e Alessandro per associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta e nel 2005 si è rifugiato nella Repubblica Dominicana ha quindi patteggiato la pena di tre anni per bancarotta fraudolenta e reati fiscali che poi non è stata scontata in quanto indultata nel marzo 2009 dopo quasi quattro anni di latitanza è rientato in Italia prima però di ripartire nuovamente bene vi ho dato queste purtroppo tristi notizie non sempre posso darvi delle notizie positive purtroppo sono col news quindi sono notizie che si sapevano già visto che sono del 26 gennaio del primo febbraio e siamo a metà marzo però io faccio col news e quindi vi ricordo anche sia le cose belle che ahimè le cose brutte detto questo vi saluto vi ringrazio e mi appresto a fare un altro video di col news magari un attimino più simpatico e carino spero se no quel che sarà sarà ciao